Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Ricordati di lasciare un like ed iscriverti al canale. Oggi vi presento la ciambella magra, interamente vegana e priva di latte, di uova, di burro, nickel, davvero ottima. Ecco gli ingredienti a seguire che vedete in video e vi riporterò di seguito la ricetta anche in descrizione in modo da seguirla con molta calma e salvarla. Gli ingredienti sono naturali, il dolce è di facile realizzazione per un risultato che conquisterà te per prima e poi tutti gli invitati con la quale andrai a condividere questa meravigliosa ciambella decorata con scaglie di alga spirulina bio al 100%. Super vitaminica perché la base è profumatissima con scorzette e succo di arancia bio.